ciao ciao a tutti oggi andiamo a guardare un po di cripto valuto un po di altcoin per cercare di capire quali sono quelle che nella prossima settimana possiamo tenere sotto stretta osservazione perché potrebbero fare i numeri abbiamo visto un po di settimane difficili sul mercato delle cripto valute perché bitcoin ha mollato la presa un po era nell'aria questa fase di riposo un po forse ci aspettavamo anche maggiore resistenza la questione ilono tutto quello che la bagarre legata alle news ragazzi ma secondo me le settimane più difficili sono ancora da davanti a noi e soprattutto la prossima allora mi è venuto in mente di fare questa cosa un piccolo change della format il weekly super pump oggi invece di andare a vedere le coin che hanno già performato bene proviamo a fare una un passo in più una diciamo un miglio in più anche 10 miglia in più andiamo a cercare qualche cripto che sul livello chiave da un punto di vista di analisi tecnica e che in effetti potrebbe aiutare nella prossima settimana con una performance superiore a bitcoin se bitcoin dovesse ulteriormente mollare la presa bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video prima di andare a vedere i grafici vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi e poi come sempre lasciatemi i super pollici perché mi aiutate con questi questi video allora andiamo subito a mettere il grafico davanti ma prima ragazzi vi do una news il corso pro di trading on aprirà martedì arriveranno una serie di offerte che non si ripeteranno mai più come sempre ragazzi perché sapete come faccio però questo è il lancio del corso pro che era un corso che è finora aperto solo a chi aveva fatto il pesi che solo apriamo a tutti e quindi per il primo lancio ho riservato una super prova arriva martedì ragazzi quindi vi do questa super news anche perché all'interno di questo corso ho iniziato già a registrare ragazzi alcune lezioni che chiameremo proprio lezioni di trading su alcune strategie in live mentre io opero realmente mentre faccio le mie operazioni come creo le opposizioni che mi generano profitto come gettisco le operazioni che mi vanno contro ho già registrato due di queste lezioni che tra le altre cose ho fatto proprio nella scorsa settimana per proteggermi dal ribasso di bitcoin e faccio vedere come si può trasformare un meno 12 di bitcoin addirittura in un profitto ragazzi è molto bella questa cosa mi piace tanto perché per i trader pro a un certo punto bisogna anche guardare un po nella pratica come si opera come si opera veramente sui mercati al di là della teoria al di là dello studio allora andiamo a guardare quelle che sono le criptovalute che per la domenica andiamo a guardare e che per la prossima settimana potrebbero fare i numeri intatto ragazzi inizio da e th perché è impossibile non andare a citare ethereum ethereum la prossima settimana potrà continuare la sua fase vediamo due punti fondamentali uno ci dice attenzione l'altro invece ci dice si continua allora se io guardo l'analisi di trend contro bitcoin ragazzi mi raccomando è importante questa valutazione sono contro bitcoin non contro usd quindi sono dei sistemi e sono delle cripto che possiamo valutare per proteggerci qualora bitcoin dovesse iniziare a scendere la prossima settimana perché vi dico questo lo scopriamo lunedì nel video della analisi ciclica analisi tecnica perché la prossima settimana è veramente delicata il lunedì faremo un super video incredibile con una unione anche con quelli che sono i mercati hold soprattutto nasdaq 100 quindi ragazzi iscrivetevi per non perdere questi video attivate le notifiche come sempre se li volete vedere in in pole position allora per quanto riguarda ethereum ragazzi allora ethereum ha un trend lineare assolutamente dritto contro bitcoin guardate qui che cosa ha disegnato bellissimo tutto rosa e fiori ha raggiunto il livello di target di 4.200 sul dollaro che vi avevo detto il domenica scorsa nel video sul target di ethereum per quanto riguarda il medio periodo dopo di che è andato giù giustamente ragazzi perché abbiamo raggiunto dei target rilevanti ha raggiunto un target importante di 0 7 0.07 btc da lì in poi addirittura ha continuato la sua performance fino alla parte alta della barra di congestione che vi avevo disegnato sempre in quel video facciamo una cosa intanto la metto uguale così si vede la struttura della barra allora ragazzi da lì in poi siamo iniziato a soffrire soprattutto gli ultimi due giorni ma non è niente di grave allora ragazzi ethereum può continuare il suo trend io ho un po' timore che nella prossima settimana potrebbe continuare una fase di ribasso o comunque di riflessione contro bitcoin perché questo livello 0.085 potrebbe essere un livello di resistenza molto rilevante per quanto riguarda eth e quindi potrebbe bloccare quella che questa linea dritta ormai non so neanche se chiamarlo trend ragazzi una linea diritta così ok allora potrebbe un po' riflettere e magari ritornare all'interno di queste due medie mobili aria di estrema rilevanza da un punto di vista di supporto in pole position tra le top five della prossima settimana non va eth proprio per questo motivo ma se dovesse nei prossimi giorni toccare il livelli per esempio di 0 7 o 0,07 ragazzi oppure al diciamo avvicinarsi alla media che vedete qui che poi una media 11 periodi semplice ragazzi allora sì si potrebbe ritornare a valutare la regina delle cripto anche per la prossima settimana altrimenti io per due tre giorni attenderei una fase di riposo andiamo alla seconda in questo caso è uni uni ragazzi io la terrei sotto stretta osservazione perché ha raggiunto un livello importantissimo di resistenza che è questo qui ragazzi esclusi 0 79 79 cioè 80 ok 8 0 0 va bene perché ragazzi perché questo è un livello di massimo storico per uni e l'eventuale break di un livello del genere contro bitcoin potrebbe innescare un super pump siccome questo è il video del weekly super pump allora valutiamo anche una cosa del genere quindi un eventuale break ben gestito anche ragazzi qui a questo punto mi preme anche dirvi che per gestire questo tipo di operatività dovete essere trader formati e capire quello che si può fare sul mercato allora questi video ragazzi servono anche a darvi delle idee di che cosa possiamo realizzare sul mercato con le attività di trading e chi è nella mia academy già lo sa ragazzi operiamo ogni giorno ci sono dei sistemi che stanno facendo numeri incredibili siamo long su eth dall'inizio di questa fase addirittura ha preso un sistema in long su ada la scorsa settimana è già raddoppiato già fatto più 100 insomma queste cose che io vi dico sono possibili se avete un certo livello di formazione e un certo livello tecnico ovviamente sono anche una grande grande un grande punto di riflessione per chi va a gestire nel mercato nel lungo medio lungo periodo perché può riflettere anche su quelle che sono le posizioni in questo caso ad esempio uni potrebbe continuare la sua fase di risalita contro bitcoin e fare una cosa del genere perché il break confermato di questa zona potrebbe essere estremamente importante e innescare questo pump proprio dovuto al fatto che va a breccare i massimi storici quindi uni entra nella cripto da tenere sotto controllo come eventuale super pump per la prossima settimana se fa questo livello di break andiamo a nexo nexo è un'altra che mi piace tanto vi ho preso anche delle cripto estremamente diverse tra di loro perché in questo caso il livello di nexo non è un break ma è una dip perché nexo si è andata appoggiare sul suo precedente livello di resistenza proprio oggi lo sta facendo da qui in poi potrebbe in effetti innescare una nuova spirale rialzista per la prossima settimana per andare a rompere i massimi storici se non fa questa cosa vuol dire che ha fatto dei massimi storici di periodo allora è importante questa cosa diciamo adesso è iniziato la fase di basista beh anche in questo caso bisogna essere bravi a saper gestire operazioni di questo tipo e a creare dei buy the tip estremamente importante estremamente diciamo tecnici che limitino i danni va bene ragazzi bisogna anche saperci stare sul mercato in buy the tip è un po più complessa della strategia di breakout però questo è uno splendido buy the tip su nexo e nexo entra anche lui nella top 5 delle coin è la seconda che possono fare un super pump la prossima settimana ovviamente super proprio relativo visto che il cripto a volte fanno più il novecento giorno non ovviamente così comunque possono salire contro bitcoin nella prossima settimana andiamo a vedere la terza solana solana anche lei come uni sta facendo le corne si sta facendo una pattern grafico estremamente importante cioè il doppio massimo questo doppio massimo in questo momento sta reggendo perché solana è andata a fare vedete questo break a tentennato poi oggi sta tornando indietro essendo anche oggi domenica ne terrei poco conto perché in realtà questo tipo di atteggiamenti questi tipi di brecchi importanti dei massimi storici devono avvenire sicuramente in altri ambiti allora intanto mi tiro sulla di queste che non serve più visto che è lontanissima vi faccio vedere esclusi 0 anzi quindi possiamo anche dire 0,001 è il livello di break contro bitcoin anche solana in questo caso come terza coin se brecca qui potrebbe innescare nuovamente una classica ondata rialzista da breakout di massimo storico anche lei entra quindi nelle nostre top five del week di super pump andiamo avanti abbiamo algo algo è una cripto un po strana in questo caso ve l'ho messa perché in ogni caso ha un atteggiamento da spike e ritorno contro bitcoin cioè impulsivo però il trend mantiene lo stesso è molto più complessa delle altre cripto valute è un grafico più rumoroso però è anche vero che questo massimo dista tanto e la coin potrebbe decidere in questa settimana di continuare questa sua fase di trend e andare proprio a impattare contro il massimo storico se fa una cosa del genere può lasciare un po di un bel po di profitto perché da questo punto a qui ci sta il 25 per cento di profitto quindi perché no anche lei potrebbe continuare questa fase se invece ritorna sulle sue medie cosa che può fare perché appunto come dicevo è molto difficile anche questo potrebbe essere una zona di eventuale buy the dip che sarebbe esclusi 0 2 2 8 28 è molto importante ragionare in questo termine anche con cripto come vi dicevo estremamente diverse l'una dall'altra quindi quarta cripto algo entra nella settimana del quickly super pump e poi abbiamo age bar age bar che è longa anche sul mio trading system da qualche giorno da questo super spike in pratica sta tentando anche lei il break dei massimi storici quante shadow quante shadow rialziste non mi piacciono assolutamente mai i grafici con tante shadow contro bitcoin perché significa che il mercato fa dei pump e dump piccolissimi all'interno della stessa giornata sono dei break fake che poi vengono riassorbiti significa anche che non è maturo però significa che mercati di questo tipo possono lasciare il segno in una sola giornata quindi proprio il super pump allora se age bar riesce magari ad andare sopra questi livelli di escusi 0 i 7 75 cosa succede che probabilmente magari tentenna come ha fatto qui nelle scorse giornate poi se per caso alla fine entro la fine della della giornata o più o meno vicino alla fine del giorno non torna indietro quindi non crea questo spike probabilmente potremmo assistere a un super pump all'interno di una sola candela perché questo tipo di cripto lo fa allora anche qui estremamente rischiosa come algo però anche estremamente interessante poi ogni tanto divertiamoci balliamo un po questa è una cripto che si può tentare l'ingresso con strategie di trading in time frame so sotto il daily orario 15 minuti due ore massimo due ore già troppo secondo me per questo tipo di cripto è però può dare grande soddisfazione è la quinta che entra nella classifica delle coin ad andare a monitorare per la prossima settimana se per caso bitcoin dovesse iniziare a scricchiolare e abbiamo detto ragazzi quindi facciamo il recap sono uni nexo solana algo ed h bar perché non ho messo ad a che sta facendo grandi numeri e volevo parlare quindi alla parte finale facciamo questo briefing su ad a perché non l'ho messa perché ad a ha fatto già il suo pump l'ha fatto con il break di questo massimo storico qualche giorno fa l'ho detto in diretta tra le altre cose perché ero in live in quel momento su youtube quindi parlavo questa pump qui è stato creato attraverso il break di questo massimo esattamente su ad a vedete quello che vi ho appena detto che potrebbe ad esempio succedere su uni o sulle altre solana per esempio perché lo stesso tipo di atteggiamento che il cripto vanno a innescare quando fanno un break storico rilevante come questo vedete questo massimo storico di ad è stato breccato all'interno della giornata del 13 di maggio ma neanche il tempo di breccarlo che già il mercato si era portato sul livello successivo di esistenza proprio perché non è possibile sui criptovalute di questo tipo attendere la conferma daily è veramente complesso e si può fare solo se inserite all'interno di trading system che miscelano con altre criptovalute quindi diversificano il rischio ma se giocate su una sola cripto dovete stare su time frame inferiori quindi l'orario per esempio quando siamo ai livelli di questi a questi livelli di break quindi per questo motivo vada non l'ho messa lì e poi anche perché ha da contro e th e ad un livello importante però anche un livello che cambierebbe questo trend di breve medio periodo che ha avuto ribassista contro e th e lo so che è strano dirlo però al di sopra di questi livelli dove proprio sta tentennando quindi contro e th 0,000 63 sopra confermandolo in questo caso perché non è un break contro btc ad inverte il trend che aveva fatto poi è anche troppo alta quindi da qui a dire entro converto a e th in ada mi sembra un po' eccessivo aspetterei un po' però potrebbe innescare una cosa del genere contro e th quindi valutiamo anche questa cosa perché potrebbe ritornare ai massimi storici contro e th va bene ragazzi allora vi ho detto tutto vi ho fatto anche un approfondimento bonus su ada e queste sono le coin che possiamo tenere sotto controllo per la prossima settimana prossima settimana delicatissima quindi mi invito a seguirmi ragazzi perché bitcoin avrà davanti la settimana molto difficile e vediamo se resisterà ancora una volta a tutti i suoi detrattori il primo addirittura il anno che sta tentando di fare i suoi soliti giochetti prima si riparo ma bitcoin non ha sette vite come i gatti ne ha 14 ragazzi e ce l'ha dimostrato in tutti questi anni vediamo che succede buona domenica a tutti ciao